E nonostante che tutti ci aspettassimo la condanna, la speranza che non ci fosse, c'era, il momento della condanna è stato davvero un momento sul piano umano molto, molto, molto duro, molto duro. E poi quando ho visto portarvi Aldo ammanettato è stato... Basta. Quel disegno di Bussotti dove si vede Aldo portato via dai carabinieri rende molto bene quel momento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.